L'unica difficoltà L'unica difficoltà Specialmente Marco è stato recuperato dalla problematica che ci ha avuto Lo stesso Smith Anche i parametri muscolari di forza e velocità sono ritornati quelli del precampionato Quindi sono pienamente soddisfatto del lavoro fatto Secondo me hanno ancora buoni margini di crescita Sia da un punto di performance che da un punto di vista dei parametri muscolari Pesca il Jolly Il prestito che sa fare tutto